Registrazione a 1080p con Sony Xperia Z1 Compact Facciamo un pan veloce Un controllo luce, anche se di luce oggi ce n'è davvero poca Vediamo come si comporta lo zoom Zoom molto potente Nel video mi sembra che si comporti molto bene La luce viene catturata molto bene L'autofocus ha gestito anche questo abbastanza bene Vediamo una macro molto bella Come video ricordo che è un 20 megapixel Bene ragazzi, ciao a tutti da Daniele Ciao a tutti Ciao a tutti